Cerimonia di consegna delle borse di studio Danilo Camorri, un'iniziativa patrocinata dall'amministrazione comunale di Cortona e dedicata alla memoria del fondatore della società Uno Informatica, nell'ottica di sostenere e valorizzare i giovani cortonesi che orientano le loro scelte di formazione in materie attinenti all'ambito di azione dell'azienda. Per noi è un valore sia sentimentale, ovviamente perché il nome che porta la borsa di studio è legata a nostro padre, sia ovviamente professionale perché nel guardare nel lungo periodo ci aspettiamo che le persone che hanno sia partecipato alla borsa di studio, sia vinto, possano nel loro valore poter confluire anche nella nostra impresa. Il bando era dedicato agli studenti universitari iscritti all'ingegneria informatico dell'informazione, nonché informatica, matematica e fisica. Penso che i giovani debbano fare qualcosa che effettivamente li motivi nelle scelte della vita, quindi qualsiasi cosa decidono di fare debbano farla al meglio e con il massimo della passione, perché questa è la cosa vincente della vita. A ricevere le borsa di studio, gli studenti risultati più meritevoli. Ringrazio anche i fratelli Camorri e l'azienda per appunto anche loro averci dato questa possibilità. Un grande sostegno appunto nel nostro percorso di studi, comunque anche nella nostra cultura, comunque permette di accrescere appunto questo bagaglio culturale, quindi penso che sia anche un incentivo a studiare di più e a studiare meglio. Quando sacrifichi tempo e vieni riconosciuto con dei premi è sempre una cosa positiva, quindi aiuta soprattutto anche per comprare libri e cose che costano tanto, perché alle magistrali iniziano a costare veramente tanti libri, quindi un aiuto in più non fa mai male. Grazie Grazie